Tottor Samito, si parla tanto in queste ultime ore della mozione presentata in Consiglio Comunale in merito alla gestione del Vincenzo Presti al Gela Calcio, mozione che poi è stata votata dalla Sise Civica. Adesso è chiaro che l'ultima parola spetta al Comune di Gela, all'amministrazione comunale. Ieri si è tenuta anche una conferenza stampa di alcuni suoi colleghi con altre società sportive ed è emerso un dato particolare che secondo loro questa mozione è discriminatoria. La mozione votata in Consiglio Comunale era per destinare lo stadio al Gela Calcio. Mozione votata per il semplice fatto che la gestione così come è stata fra tante società ha portato solo degrado all'interno dello Stato. Riguardo alla conferenza stampa fatta dai colleghi dove da qualche parte è uscito fuori il termine regolamento noi vogliamo semplicemente fare una precisazione. Il regolamento è stato già approntato dalla Commissione Sport, regolamento che è stato già portato all'ufficio alla dirigenza, aspetta che torni all'ufficio di Presidenza per essere deliberato, l'ufficio di Presidenza apprezzerà ai capigruppo la proposta di delibera e dopo all'interno del Consiglio Comunale si possono fare tutti gli emendamenti possibili e immaginabili. Solo dopo noi come Commissione chiameremo tutte le società sportive di calcio e nonne che sono presenti sul territorio e con loro faremo una discussione. Durante la conferenza stampa ieri è emerso anche un altro dato che secondo alcuni il calcio al Gela non è soltanto il Gela. Questo è vero, su questo non c'è dubbio, quindi semmai quello che bisogna fare è invitare l'amministrazione a spendersi di più magari creando nuovi spazi, nuovi stadi o migliorando laddove ce ne sia la necessità quello di Macchietella in modo tale che tutti possano avere la giusta visibilità. Però non c'è dubbio sul fatto che se il Gela Calcio è la prima squadra della città e ha necessità legate dalla direttiva data dalla Lega Nazionale di Elettanti, su questo bisogna attenersi e bisogna evitare che dopo sei mesi lo stadio ritorni allo stato di De Grato che è oggi. Noi come Consiglio Comunale possiamo semplicemente fare le proposte, dopo sarà il Comune, l'amministrazione che se lo riterrà opportuno farà un accordo con il Gela Calcio o meno e su quell'accordo metterà le basi per darglielo o meno con le condizioni che l'amministrazione riterrà opportune. Fatto questo noi non possiamo entrare nel merito di quello che farà l'amministrazione in questo senso abbiamo semplicemente votato una mozione che dopo può essere o meno accolta dall'amministrazione. Ma secondo lei allora è giusto che lo Stato di Inizio di Presti sia dato in gestione solo al Gela Calcio? Ritengo che lo stadio vada gestito da chi ha l'interesse a renderlo fruibile, a mantenerlo pulito e in ottimo stato. Che si chiami Gela Calcio o che si chiami Amo Gela a me poco importa.